Come e quale sarà il futuro del Bastione Sangallo? Con questi interrogativi ieri sera l'amministrazione comunale di Fano ha incontrato i cittadini ed illustrato i prossimi interventi e i progetti di riqualificazione dell'intera struttura per far sì che diventi frequentata da chiunque e con un occhio di riguardo sulla capienza che dalle attuali 150 persone diventerebbero circa 300. Con i tecnici del Comune di Fano abbiamo lavorato un progetto che vada proprio a lavorare sia per migliorare la capienza del bene ma allo stesso tempo anche per renderlo più accessibile a tutti in tutte le sue piazze perché come vedete oggi sono visitate, sono possibili da visitare singolarmente senza un accesso interattivo e soprattutto funzionale su tutti i piani. Cosa che invece con questo progetto sicuramente avverrà perché verrà realizzata una terza uscita di sicurezza appunto con una nuova componente esterna che darà accesso sia alla parte alta che alla parte bassa. Verranno messi a disposizione, verrà realizzato un nuovo bagno per disabili proprio in questo piano, cosa che oggi non c'è, disabili e anche non. E soprattutto ci saranno anche dei montacarichi nella parte superiore che metteranno a disposizione tutto il bene in tutte le sue parti anche da persone che in questo momento non riescono ad accederci. Questo è un progetto con il quale ci siamo già candidati ad un bando regionale che finanzierà proprio degli interventi sulla messa in sicurezza della cinta muraria. Per cui attendiamo l'esito e incrociamo le dita. L'ultimo intervento eseguito al Bastione Sangallo, ha detto Brunori, risale dal 2000 al 2003 per mano del professor Cupini. Negli ultimi anni sono state diverse le piccole migliorie e gli interventi da parte del comune, come la nuova rampa per disabili, una staccionata e la nuova pavimentazione insieme al nuovo impianto di illuminazione inaugurato alcune settimane fa. All'incontro dal titolo I luoghi della cultura erano presenti anche l'assessore Cora Fattori e l'architetto Pamela Lisotta che ha illustrato la nuova scala via di fuga in stile torre d'assalto e una nuova passerella per raggiungere in sicurezza la parte alta del bastione. Un progetto che abbiamo voluto fortemente e si inserisce nel filone dei luoghi della cultura. Perché? Perché vuole valorizzare il bastione a pieno. Il bastione Sangallo ha grosse potenzialità, può ospitare laboratori, presentazioni, conferenze e può fare veramente tanto. Già ad oggi è una struttura che è diventata preziosa per la città, con questo progetto di riqualificazione può diventarlo ancora di più perché si apre una capienza maggiore che ne permette usi migliori per la città ma soprattutto diventa anche più accessibile per le persone con diverse abilità. Quindi un lavoro che la città desiderava da tempo.